Avanti salvo sbrigati! Ma che c'è? Siamo arrivati da Mabù! Ho capito ma non è che mi puoi fare correre sempre! Ho capito io devo comprare un profumo per donne! Vabbè andiamo! Avanti salvo dai muoviti! Me lo dici cosa dobbiamo fare? Devo fare un regalo di compleanno! Ma per chi è? Per una donna! E' giusto! Ho chiamato te perché tu magari mi sei dare un consiglio proprio per un profumo da donna! Ma io non ne capisco niente! Ma come uno ti chiama per un consiglio e tu non sei consigliere! Ma io non sono né consigliere né sindaco! Io faccio il presentatore! Ma visto che fai presentatore ma non sei consigliere io un consiglio lo chiedo da Alexa! E dov'è Alexa? Qua, vedi? Alexa c'è sempre! Alexa io e salvo siamo arrivati da Mabù! Salvo è in tutù? Non lo so salvo che c'è tutù! Ma quando mai? Io ho il mio solito abito di scena! Alexa io devo comprare un profumo da donna! Ti devi comprare una gonna! Da gonna? Si salvo con il tutu e la gonna! E facciamo la coppia altra! Che... Parloci! Aspetta un attimo ci parlo io! Alexa lui deve comprare un profumo da donna! E dimmi che tipo di gonna ti piace? Niente! Aspetta vado con la gonna! Niente! Scendiamo giù e chiediamo a qualcuno! Andiamo che è meglio! Vieni, vieni, vieni! Aspetta un momento! Sì! Ecco! Ma scusami! Stai cercando il profumo da donna nel reparto pelletteria? Perché ho sbagliato? No, no, no! È tutto giusto però il reparto è dall'altra parte! Vieni, vieni! Ecco! Vieni, vieni! La signorina è già pronta! Grazie! Molto gentile eh! Hai visto! Finalmente hai trovato il profumo da donna! Salvo ha messo una gonna! Guardi noi ce ne andiamo perché salvo la rosa si deve mettere la gonna va bene? No, no, no! Mi metto l'abito blu! Buon divertimento! Comincia il programma! Se al mondo non c'è uno che è vero ti fa svagare Son qui, io per te, son quello che ti fa scordare Se la moglie ti strilla e il marito ti assilla e non c'è chi ti fa calmar Son qui, io per te, son quello che vi farà riamare Son la stella che brilla, son la tua camomilla E con me ti puoi anche rilassare Son la tua medicina, la tua pollicina Stappi in area dalla tv ti faccio sganasciare Noi se ti arrabbi perché un motivo non c'è Ti stai a imbronciare È tutto un programma, adesso ti leva lo stress È tutto un programma e ti sta a rilassare È tutto un programma e ti stai a svagare È tutto un programma e lo stai a guardare È tutto un programma e lo stai a guardare È tutto un programma e lo stai a guardare È tutto un programma e lo stai a guardare È tutto un programma e lo stai a guardare Normale No, turbolenta Normale Ecco, bravo Sì, posso fare una domanda perché A chi a me? Sì, sì Ma tu lo sai chi eri in una vita precedente? Io? No, ascoltami Io già a stento so chi sono in questa vita Quindi nella vita precedente non lo so Però non lo sai Ma c'è un metodo facilissimo per sapere Ah sì? Basta chiedere ad Alexia Tu fai una piccola presentazione di te Dici io sono Salvo Larrò E lei ti dice chi eri Ma funziona Io ho detto che deve essere tutto normale Sì, l'ho provata Allora, lo accontento e poi partiamo Quindi state comodi, mettetevi comodi a casa vostra Allora, Alexa, forse lo sai Io sono un conduttore televisivo Faccio questo mestiere da più di 40 anni Mi piace molto comunicare, parlare con la gente E quindi io sono contento di quello che faccio ora Ma prima puoi dirmi io che cos'ero? Nella tua vita precedente eri un professore Ah, ti accadirà benissimo Mi è andata benissimo Tra l'altro mi sarebbe piaciuto fare il professore Grazie Alexa, grazie Però io sono troppo curioso Devo sapere che ero io nella mia vita precedente Senti, ho detto normale Non vorrei che succeda un cataclisma Glielo chiede Glielo chiede e partiamo, dai Alexa Eh? Ciao Ciao, io sono Manfredi delle Besse Allora, io la mattina quando mi alzo Ho la schiena che mi fa cric Il collo che mi fa croc Ma chi ero nella mia vita precedente? Nella tua vita precedente eri un cracker Come un cracker? Ma chi? Ma un cracker A me piacciono i crackers Cioè io la mattina mi sveglio e sono un cracker Eh beh, tu le hai detto Faccio cric, faccio croc Lei ha messo tutto insieme Quindi eri un cracker Ma poi vuoi dire i crackers Mi sono sempre piaciuti da bambino Ma forse per questo ho deciso di prendere Manfredi di Liberto E portarlo a TGS e ad RTP Per questo programma Che è tutto un programma Io spero che la prossima, quella che sta per cominciare Sia una puntata normale Ma non posso garantirvi nulla Intanto, comunque, vi auguro Buon divertimento con i crackers Preparateli eh Eh amo Eh amo Amo Che è amo? Che? Però così tu dormi giusto Il film è iniziato da ora Ma mi cacciavo tu il medio Stavo pensando Vabbè tu dici sempre così E un film non te lo vedi mai dall'inizio alla fine No? Io lo dico sempre I film dovrebbero cominciare dalla fine Fare solo fine E inizi Quello che c'è in mezzo F***ti Dico Alla fine un film dura 5 minuti E tu ti puoi andare a correcare Ma questo film dura 2 ore Beh 2 ore E che mi devo prendere 2 ore di sonno per loro? Eh vabbè però tu sei troppo lavativa è giusto Eh Tu dovresti fare come me Ogni volta se lo vede tutto il film all'inizio Tu sei brava Tu si che hai pioneggia da me Vabbè va Mi vedo io da solo la serie Ugo Boss E neggi che sei Non si può morire dentro Cercami Tanto non mi troverai Sono stato un fedente L'attitante lo so Antonio 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 Capo io già l'avevo sentito da là sotto Non è che c'è bisogno che mi chiami sempre Io mi devo comprare il collino Ma visto che c'è lì che mi chiamano non me lo compro più Ho l'occhio tutto lubrificato Ti devi stare zitto Quando ti chiamo mi devi ascoltare E basta Sì capo Ascoltami Eh Siccome ora io devo chiamare e do un catacombo Sì E mi devo rilassare Sì Fammi un bello caffè No capo il caffè non la rilassa Anzi la Ma innervosisce Che cosa? Il caffè Lei non la rilassa Ma lo innervosisce Innervosisce Con una sola c'è Hai capito? Fammi il caffè Prego di pigliar boff Boh Io lo faccio così Rilassa Capo Ecco il suo caffè Antonio Tre ore per Capo il caffè è suo Dico lo sputo è suo Tutto suo Per fare un caffè tre ore Ma è un caffè macchiato Come un caffè macchiato Ma io ci tengo a fare le cose giù Un attimo capo Aspetti qua Non senza lavoro Ma manco un caffè Saffi Raffa Manco un caffè Ma l'ha fatto pure acqua Ma che stai facendo Antonio? Dato che il caffè è macchiato Io lo sto un attimino Ok resti a posto Cimoneto Il caffè è macchiato Non la tazzina E che? La tazzina no! Ah il caffè Allora un altro Ma vabbè come? Facci il combattere Facci il combattere E ora che cosa stai facendo? Questo è un dettagente che leva anche le macchie più stili capo Così il caffè non è più macchiato Vuoi prendere il basolino Ma lo fai corretto Ma lo fai? Parti da parte Fratozio mio Che cosa ti ho fatto io Per avere questa malaminchiata Che manco Mi sa fare un caffè Aspetti 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 Antonio 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 Affutivo capo Antonio Quando ti chiamo Devi venire subito E che c'entra quei sombrelloni Chi che porta sfortuna Voi levo Era per prepararmi Senti una cosa Ho parlato con Don Catacomba Sì Siccome Tommy ha detto lingua lunga Sì Ha cantato Sì Questo ci vuole fare incocciare Ci vuole chiamare qua i poliziotti E così ci attenziano No Allora devi portare tu un lavoro a termine A termine merese? Prendo il treno Sì A sciacca Poi passi prima Sento una cosa Mi devo fare un favore Prima che Antonio Finisci Chiudi questa cosa Allora Ti dico quello che devi fare Non sbagliare No Perché questa è l'unica occasione che hai di fare figura Allora Ascoltami bene Sì Tommy Sì Letto lingua lunga Sì Ha cantato E che ha cantato capo? A quanto pare ha cantato su di noi Bella Su di noi Nemmeno una nuvola Su di noi Il mare è una Ha cantato su di noi L'ho capito capo è bellissimo Su di noi Il mare è una tavola Il cielo è una nuvola Su di noi Il mare Non mi farei nervosire Tommy Detto lingua lunga Ha cantato su di noi Non è la canzone di Pupo Ma chi sta dicendo che l'ha scritta Pupo Io ho l'autografo di Pupo Pupo Sul disco Che mi firma l'autografo in una canzone che non è sua Ma Fratello mio Ma Ma perché Ma perché Io da piccolo lo volevo assassinare Invece L'ho risparmiato Ma sta parlando di me No no niente Che fa scherzi Che fa Sento una cosa Mi stai facendo venire i nervi Tommy oggi Su Di noi Il mare è una tavola Ascoltami Allora Ora vai da questo Tommy lingua lunga E fai quello che deve fare Però una curiosità capo Ma questo Tommy lingua lunga Che io devo andare a prendere Ma canta solo su di noi Oppure già da cioccolato Vattene nella tua istanza Vabbè se non va canta niente Vattene nella tua istanza Mi sta facendo impazzito questo Antonio Antonio L'avevo sentita capo Ascoltami Ho saputo da fonti certe Si Che quel pezzo di porco di Tommy E come si chiama Lengua lunga Bravo Ma voi non ce l'hai Praticamente ha saputo che noi lo stiamo cercando Si E lui forse vuole partire E a quel porco gli hanno fatto Il passaporto No No campo Se è un porco Gli hanno fatto il passaporto No il passaporto Gli hanno fatto il passaporto Perché deve partire con l'aereo Passaporto Se uno pette col porto con la nave Giusto Dico ma ti vuoi stare zitto a sci Cinque minuti Adesso tu vai dove si nasconde lui Si E me lo devi portare direttamente qua Si E poi me lo sbrigo io Si Ti raccomando Deve fare una cosa importante Mi dica Metteci lo scotch in bocca No Non deve parlare più Gli metto lo scotch in bocca Così lui non parla più Bravo Ti raccomando Si Sicuro Te lo dico io sicuro Lo scotch Hai capito? Lo scotch In bocca In bocca Sbrigati Capo Mi scusi No Io voglio sapere da Tommi Lingua Lunga Come ci devo andare Perché a me mi hanno rubato il motorino Cioè ti sei fatto fottere il motorino Cioè tu L'aglio Aspirante killer Cioè io Io ho dei buoni propositi per te E mi fai fare queste brutte figure Non lo so Sgraziato Ma come si fa? Come faccio? Come si fa? Senti Qua ci sono le chiavi della mia macchina Va Faccio con questa Fuori C'è la fiesta Allora capo Se non le dispiace Prima faccio un brindisi E poi vado a Tommi Lingua Longa Va bene? Scusa In che senso? Cioè io ti sto dicendo che Fuori c'è la fiesta Ehi capo Ah gli amici spagnoli Sono venuti qua a fare la fiesta Mi bevo prima un po' di spumante E poi vado a Tommi Lingua Longa Non hai capito bene La mia macchina È una fiesta Ah Ho capito capo Hai capito? Vabbè Allora a me sembrava che la fiesta era qua fuori Ma visto che ha la fiesta in macchina Io vado a piedi Cos'è un disturbo che sono inventato Vabbè? Se non te ne vai ti faccio prendere il 17 sbarrato Te devo andare subito Auguri Buon compleanno capo Metticela a pensino Tenga il tendo delle chiave Se ha la fiesta Così può far uscire poi gli ospiti E chiude Fuori Con soli Quoi Lei ли Oramai lo sanno tutti dov'è. Ugo Boss ha le ore contate. E non solo lui, pure Antonio. Ma che mi spettano pure a chilometri di scienza? Secondo fonti certe, pure Don Catacomba ha le ore contate. Sì, io sto facendo accordi con la polizia. Mi hanno detto che se collaboro con loro, mi lasciano in pace. Sì, perché a loro interessa dove si nascondono Ugo Boss e Antonio. No, no, non ha capito pace, proprio. Ci sto andando. Sto andando da loro. Mi aspettano alla centrale, sì. Dov'è che stai andando, Don? Ma tu sei... Non me lo dire, te prego. Ma tu sei... Lo so che sai chi sono, ma non lo dire, per favore. Tu sei Antonio. E' botta le sale. Non è che c'è un passolettino. Tieni. Grazie. Ti prego, però, non farmi del male. Senti, vieni che tu parli a sale. Ma tu lo sai a te come ti chiamano in giro? Tommi lingua lunga. Ma chi mi chiama così? Tutte. Ma tutti chi? Tutte. Ma tutti chi? E' un modo di dire. Non è che è passante. Ecco, come direi, tutti. Non è che mi posso mettere in carino in tutto il paese. Giù? Andiamo fuori. A me. E allora, inginocchati e basami le mani. No, questo è un zappatore. E adesso sedete su quella seggio. E stavolta ascoltami senza interrompere. Sì. E' tanto tempo che volevo detto. Stiamo facendo tutto un ricordo cocciante. Stiamo facendo, giusto? Sì, 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 sì. Così. E allora, adesso io non devo farti parlare più perché io ho ordini ben precisi. E c'è solo un metodo per non farti parlare. E qual è? Ti devo mettere lo scotch in bocca e poi ti porto dal mio capo Hugo Boss. No, ma lo scotch non quello. Fai pure lo scherzionoso, chifo. Se ti piace magari un'altra maica. Beh, beh. E scratta. Beh, beh. Venga, facciamo a... Beh. Beh. Andiamo da qua. Capo, io il mio dovere l'ho fatto. L'ho portato a tua mia lingua lunga. Bravo Antonio. Mi hai portato il cantante qua. Brava. Ce l'hai messo lo scotch in bocca. Un litro e mezzo, capo. Scecherando. Ma qui... Scecherando. Ma qui sei tutto un bravo. Ti ho detto lo scotch che gli avevo messo. Scecho, capo. Un litro e mezzo di scotch che voleva soppio. Ah, io ti ho detto lo scotch è quello di imballaggio. Me lo hai fatto bravare. Scecherando. Non lo so, capo. Io ho capito scotch. Io scotch. Duzzitto. Lo sai che sono io. L'orezzano e Merzè. Sì, e lei c'è l'amboghino. Ora facciamo il ballo sotto il chetocco. Mi dico, ma fratello mio. Io dico, ma ora... Ora... È giusto. Ora ho un malaminchiata e un ubbriaco. Hai sentito? Cosa ti ha detto il capo? Che sei un malaminchiato. No, no, non grida. Zitto. Oh, il malaminchiato sei tu. Ah, meno male, capo. Mi sembrava che ero ubbriaco. Ci tengo di essere malaminchiato. Scecherando. 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 È tutto programma e lo stai a guardar adesso. E dillo che è tutto fosse. Scecherando. 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 mangio un'insalatina leggera e poi la notte non ci vedo più dalla fame la mia testa è sempre lì al cannolo che è in frigo mi convinco di essermi alzato per bere un po' d'acqua ma tanto lo so che sto per prendere il cannolo questa è l'ultima volta che mangerò cannolo da domani compro la cassata basta ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a mettermi a dieta prego avanti buongiorno dottore oh di liberto si accomodi venga non so se c'è passo dalla porta io la vedo perfettamente in forma ma quale poi? poi mi fai mangiare però lei è contenta si vede dagli occhi lei sprizza felicità da tutti i pori no dottore io sprizzo olio di frittura da tutti i pori così quando vedo persone che raggiungono l'obiettivo come lei io mi sento grato della professione che faccio obiettivo raggiunto proprio ebbene bravo 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 e sono io ma lasso come? e perché? e diciamo dottore che io negli ultimi mesi ho preso qualche chilo ma io sinceramente tutti i stichili in eccesso non li vedo lei dottore si deve mettere un paio di occhiali top però top ora che lei ha raggiunto diciamo l'obiettivo della dieta ah perché ho fatto dieta? certo ora deve cercare di mantenere il suo fisico si mi dica dottore che cosa devo fare magari riesco a riconquistare mia moglie che lei mi voleva un po' più magro e invece io in un mese devo andare così a lei le piace il pesce? si dottore finalmente mi ha detto un cibo salutare si però dipende sempre da quello che trovo in pescheria benissimo qualsiasi pesce che lei trova in pescheria lo porta a casa e fa una bella frittura mi pareva una cosa leggera ma invece un fritto c'è sempre di liberto e lei come vuole mantenere il fisico? mangiando light? nooo ci mancherebbe dottore meglio il pesce fritto poi per esempio in pescheria se trovo un... che ne so... uno sgombro ma lo sgombro è che un pesce grasso dottore? è grasso se lo trova grasso lei quando va in pescheria deve dire al pesce vendolo per favore mi da uno sgombro magro ah certo io vado in pescheria scusa signor pesce vendolo lei che ci ha avuto uno sgombro che è una marfica ditta lei questo sgombro me lo deve infarinare imburrare e friggere nell'olio senta dottore a me tutti i miei vicini di casa tutti quelli del quartiere mi sopportano più ma c'è una puzza di fritto c'è puzza di fritto ovunque è tutta lasciata io ho paura che dopo tutte queste lamentelle il mio pagione di casa mi chiede lo sfretto lo sfratto scusa è l'abbato non è uscito fritto tutto il tempo ho capito che lei vuole evitare la frittura a me interessa che lei mi mantiene il colesterolo lei a casa mi deve mangiare sette tipi di formaggi diversi non lo so colgonsola, provolone, provoletta questi tipi di formaggio così lei mantiene il colesterolo dottore lei secondo me mi vuole fare morire ma mi dica ma lei io che ce l'hai fatto lei per esempio ha fatto esami del sangue? si dottore perchè mia moglie mi ha costretto ho capito e il colesterolo a quanto ce l'ha? 850 perfetto perfetto lei il formaggio lo può mangiare ma stai morendo dottore l'infermina gli disse a mia moglie guardi che il suo marito il colesterolo ce l'ha da sopra cadù lei transaminasse quanto ce l'ha? 85 beh ha visto io ce l'ho 83 lei sta meglio di me stiamo morendo tutti noi dottore e poi mi dica mi dica la glicemia a quanto ce l'ha? si 300 perfetta lei è sano come un pesce io sono contenta di averla fatto stare meglio per me è tutto e poi le raccomando conquisti sua moglie eh? la porti a cena e poi eh? senta io a mia moglie l'ha invitata eh? ma senza cena non mangiamo più proprio così e le raccomando mangi solo cibo salutare guarda dottore io penso di non mangiare più proprio per un po' di tempo cibo salutare si proprio che io nel senso vedo un fritto e saluto lontano ciao 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 dottore se c'è qualcuno che un po' mi sta qua io per pronuncio la mando da lei mi dice chi è stato in sacca? la mando dal dottor Porcello vabbè grazie eh arrivederci anzi no non arrivederci ma un po' di niente salutare ciao arrivederci a quando è tutto programma e lo stai a guardar ma adesso e dirlo che è tutto torce buongiorno salve ho sentito parlare che c'è questa Fidelity Card ma boom cosa consiste? si certo eccola qua questa è la nostra Fidelity Card è una raccogli punti in cui ottieni tantissime agevolazioni ma io ho sentito parlare anche di un'altra card si certo eccola qua la Young ah io questa perché sono giovane quindi ma no hai 16 26 anni ah io ho 25 allora che e allora ecco la tua card grazie arrivederci ma credi ma che ci fai qui? sono qui da Mabu che ho fatto la Fidelity Card devo farla anche io quella bianca quella bianca tu cioè non l'ho fatta io a 35 anni la devi fare tu ma per favore va vabbè d'accordo io ho più di 35 anni ma perché stai facendo così? perché mi stai trattando così? è tutto programma e lo stai a guardar adesso e dirlo che è tutto torce sono il corriere di Cacazon Prime e si sa con noi le cose arrivano Prime allora vediamo oggi che consegna dobbiamo fare signora Presti Filippo in via dei Tre Pupazzi 85 e dove sta via? vabbè ma per noi che siamo corriere di Cacazon Prime questo non è un problema perché noi le strade le sappiamo tutte grazie al nostro navigatore ehi navigatore buongiorno dove ti porto? ti porto dove vuoi tu? dimmi allora dove ti porto? dimmelo sono tutto orecchi allora me l'hai detto dove vuoi che ti porto? un minuto fammi parlare fammi parlare come è allora devo andare in via dei Tre Pupazzi 85 in posto percorso per i pazzi devi andare al manicomio ma quale manicomio? io devo consegnare un pacco in via dei Tre Pupazzi 85 in posto percorso per i pazzi hai bisogno di un TSO ma quelle TSO devo andare in via dei Tre Pupazzi navigatore? buongiorno dove ti porto? di nuovo devo andare a consegnare un pacco a questa signora che sta in via dei Tre Pupazzi vuoi andare a casa dei Poo? ma che c'entrano i Poo? i Poo che pagano i Poo i Tre Poo Pazzi no i Poo i Tre Poo Pazzi mi dispiace non sapevo che i Poo fossero diventati pazzi ma che c'entra? i Poo è un'altra cosa non è che roba facchina davanti a pazzi e ci sono una casa i Tre Pupazzi la via i Tre Poo Pazzi vabbè navigatore fottetene io lo chiedo a Siri ehi Siri portami in via dei Tre Pupazzi mi dispiace non sapevo che i Poo fossero pazzi si cantando Uomini Solo ed essendo solo diventarono pazzi ma che c'entra? vabbè chiamiamola la signora allora Siri chiama la signora incantalupo ok chiamo la signora incanta fuso no incantalupo incantalupo lupo? si lupo chiamo la signora lupo incanta a chi è che incanta? il lupo il lupo incanta la signora? ma che mi sento confuso che mi sento confuso a chi devo chiamare? a nessuno fottetene mi chiedo a spiegare la camomilla è tutto programma lo stai a guardare a te e dirlo che c'ho sto forse le principali notizie di oggi regia il foglio non ho il foglio regia date per il foglio che cosa leggo senza foglio? il copo l'avete il copo? ah è sfasciato prima buonasera sono papapapa di Knews24 ecco le principali notizie di oggi brutta avventura per un turista brasiliano che nei giorni scorsi è stato fermato dall'autorità giudiziaria alla dogana di Malpensa perché è sospettato regia regia che cosa è succede? perché parlo con questa voce che è un mostro di Loch Ness ma chi sa succede? che ora la voce però è perfetta appena dovevo la notizia però c'è questo che è tipo ormone tipo boh scusate buonasera sono papapapa e stavo dicendo brutta avventura per un turista brasiliano che nei giorni scorsi è stato fermato dall'autorità giudiziaria regia regia che vuoi fare? sentite che io stavo scemo risolvete questo problema che non lo so che mi sta succedendo che scusate buonasera sono papapapa di Knews24 abbiamo risolto i problemi tecnici quindi possiamo proseguire con la notizia di oggi brutta avventura per un turista brasiliano che nei giorni scorsi è stato fermato dall'autorità giudiziaria alla dogana di Malpensa perché sospetta scusate ma un nostro collaboratore ha aperto la finestra e oggi c'è un po' di vento vabbè regia la potete chiudere e c'è la finestra allora posso dare c'è notizia che c'è ora che la devo dare allora c'era un uomo quest'uomo è rimasto fermo alla dogana di Malpensa segia in questo studio abbiamo due finestre le dovete chiudere tutte e due non una sola tutte e due abbiamo terminato spero che la puntata vi sia piaciuta e io ne approfitto perché sono riuscito a togliere Alexa dalle mani di Manfredi di Liberto e quindi chiudo in bellezza perché sono io a fare una domanda ad Alexa allora Alexa ti è piaciuto il programma? quale programma? ehm questo programma quale programma? dai Alexa è tutto un programma è tutto un dramma? no sì per la verità è stato un dramma però programma diaframma? no il diaframma mi fa male pensando a Manfredi programma pentagramma? sì vabbè la musica che c'entra dai Alexa è tutto un programma è tutto sua mamma? non lo so se è tutto sua mamma però se è così povera mamma vabbè Alexa la sapete abbiamo terminato spero che vi siate divertiti ma noi torneremo ancora una volta perché è tutto un programma è fatto proprio per regalarvi sorrisi e divertimento con Manfredi di Liberto su TGS su RTP su web e sui social e anche con la partecipazione del signor La Rosa Kututu Kori buonasera e grazie ciao Alexa ciao se al mondo non c'è uno che è vero ti fa svagare sono qui io per te sono quello che ti fa scordare se la moglie ti strilla e il marito ti assilla e non c'è chi ti fa calmar sono qui io per te sono quello che ti farà riamare so la stella che brilla so la tua camomilla e con me ti puoi anche rilassare so la tua medicina la tua bollicina sta binaria dalla tv ti faccio sganasciare se ti arrabbi perché un motivo non c'è ti stai a imbronciare è tutto un programma adesso ti leva lo stress è tutto un programma e ti sta a rilassare è tutto un programma e ti stai a svagare è tutto un programma e lo stai a guardare adesso e dillo che ti ho tolto lo stress ho bisogno di un buon profumo e scusa salvo ti sto disturbando no 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 tu non disturbi mai ma meno male perché pensavo che ti avevo disturbato no per carina dimmi io lo rubo un secondo proprio che io lo riporto ma che sono un pacco postale che riporti me lo dici di cosa hai bisogno mia moglie mi ha detto vai da Mabù e mi compri un rossetto rosso e tu questo consiglio lo chiedi a me e perché tu non ne capisci dei rossetti non ne capisco nulla sicuro io pensavo che invece niente ma visto che allora tu non mi sei dare nessun consiglio io chiedo ad Alexa sì ma questa volta Alexa non c'è come non c'è qua si sta toccando vanitosa eh Alexa siamo arrivati qua da Mabù ok io dovrei comprare un rossetto rosso te la sei fatta addosso ma che c'è io no devo comprare un rossetto un etto di cosa prosciutto no Alexa sì un etto di prosciutto due etti di mortadella e una mozzarella no Manfredi deve comprare un rossetto rosso ma perché non andavate in bagno al posto di farvela addosso ma Alexa io devo comprare i trucchi i trucchi sei diventato un mago ma chi sì i trucchi i trucchi che uno che si ma senti e Salvo chiediamo a qualcuno che Alexa può cominciare a fare una riparata la persona andiamo calvo calvo eccoci qua grazie visto Salvo la signorina mi ha saputo consigliare e da Mabù hai trovato un magnifico rossetto rosso ancora e la sei fatta addosso sento Salvo tenete la tua a questa che a presto mi arrivo a 500 però tu stessa dai Alexa e basta comunque ci vediamo alla prossima puntata